La vita in generale parte seconda 23. Mele e zenzero Le consiglio la crostata di mele e zenzero, dice Simone Busatta, avvicinandosi a uno di loro. Semplice ma raffinata. Quello si gira e lo guarda perplesso. Sembra incerto se dire o non dire qualcosa. Interviene la donna accanto a lui. Il signor Rudenco non parla l'italiano. Deve rivolgersi a me. Sono Teresa Popov, la sua assistente, e faccio da interprete. Siete russi, azzarda Simone. Sì, dice lei. No, dice lui. Eh, dice Simone. Non ha capito, spiega l'assistente, indicando Rudenco. Non so l'italiano, si giustifica lui. Simone inarca un sopracciglio. Ma adesso lo ha parlato. Perché sto, spiega Rudenco, come è parola? Imparando, gli risponde l'assistente, in un tono che Simone trova un po' troppo severo. Rudenco sorride. Sto imparando. L'italiano in effetti è una lingua piuttosto complessa, interviene un altro, soprattutto nella forma parlata. Per esempio, in linea di massima, le domande si distangono dalle affermazioni soltanto per il tono della voce. Bisogna far percepire all'interlocutore il punto di domanda. A differenza di altre lingue, come il muto, interviene Rudenco. È un po' brusco, ma deve essere la scarsa padronanza della lingua, pensa Simone. Fatto sta che il tipo interrompe la dissertazione linguistica fuori luogo e si allontana con una fetta della crostata che Simone aveva consigliato a Rudenco. Vedo che ha appena conosciuto il dottor Merli, responsabile della comunicazione, interviene Rita. Ci avrei scommesso, commenta Simone. Possiamo cominciare con la presentazione adesso, gli dice lei. Non ho sentito il punto di domanda. Forse perché non c'era. Simone la guarda. Io non le sto simpatico, vero? Il punto di domanda qui c'è, ma non serve. Difatti Rita Contini non gli risponde e subito dopo insiste. Cominciamo. Il generale si è trasformato in Papa, con una buona parola per tutti e una benedizione per la Italum. Nessuno ha all'uso la sua rovina, il crack, il processo, la prigione. Anche se è chiaro che tutti sanno, non possono non sapere e nemmeno gli hanno chiesto dove era finito e come è riapparso. Lo hanno stupito, in particolare i tre delegati delle banche. Si sono quasi genuflessi davanti a lui, l'uomo che un tempo delle banche era stato assieme carnefice e vittima. Tutti sembrano onorati di conoscerlo. Rita aveva ragione. Anche lo squalo gli ha sorriso, girandogli attorno. Di certo pregusta una preda grossa e prelibata, di cui vantarsi con gli altri pescecani. Il generale lo teme, ma sa con chi ha a che fare. Ha inquadrato il tipo, cosa che non si può dire di Repetti, il braccio destro dell'ancora assente Matteo Rasori. L'atteggiamento di Repetti è contraddittorio. Ha fissato a lungo il generale uno sguardo affilato e gelido, una lama di ghiaccio che gli è entrata dentro. Eppure, quando Repetti gli ha parlato, si è mantenuto distaccato. Il generale ha avuto l'impressione che Repetti stesse combattendo la propria curiosità, o più precisamente, la manifestazione di essa. Un uomo che si innega ai sentimenti è un uomo pericoloso. Il suo autocontrollo lo rende incontrollabile dagli altri. Ha disattivato le leve della paura, della pietà, della complicità. È una causa efficiente, come un inevitabile fenomeno naturale. Il generale, contento che Repetti sia solo una figura marginale in tutta questa storia, non è lui l'uomo da affrontare e conquistare. Spera che Matteo Rasori sia fatto di un'altra pasta. Da quanto gli ha raccontato Rita, si direbbe di sì. È il momento della presentazione ufficiale dello staff, finalmente. Il generale manda tutti a sedere. Muffa si lamenta. Proprio adesso che avevo chiesto se ci portavano un po' di Sambuca, come piace a noi. Vada a sedersi, prego, gli ordina il generale. Poi spiega a uno dei delegati delle banche, lì vicino. La storia della Sambuca è un vecchio tormentone fra me e l'ingegner Salvini. Il generale e Rita si mettono in piedi davanti alla fila di sedie, come con alle spalle lo schermo su cui continuano a passare le immagini dell'allegra fabbrica di profilati d'alluminio. Se le avesse viste prima, il generale avrebbe sconsigliato. Repetti, lo squalo e i tre delegati delle banche siedono in prima fila. Gli altri sono tutti dietro, in attesa di essere chiamati a presentarsi. Hanno provato tante volte il copione nella base operativa, ma qui è diverso. Rita se la cava con poco. Vi porto i saluti del mio padre, che purtroppo non ha potuto essere presente per problemi di salute, spiega. Il generale nota il sorrisetto dello squalo. E lascio subito la parola all'uomo che mi affiancherà nella rinascita della Italum, conclude Rita. Tocca lui, il generale. E il generale dice... 25 Per rinascere bisogna prima morire. E io sono stato un uomo morto. So che cosa significa perdere una vita. Già, quando chiedete come va la vita in generale, vi riferite a quell'insieme di cose ovvie che sembrano marginali rispetto all'argomento del giorno. È una domanda che si fa così, per abitudine e cortesia, senza un reale interesse. E la vita in generale? La risposta di solito è una scrollata di spalle. La vita in generale va avanti con le solite cose date per scontate. Avere qualcosa da mettere nel piatto, avere un posto per dormire, avere famiglia e amici. Questa è la vita in generale. Che sembra ai margini. E invece è il centro di tutto. Io lo so perché l'ho persa. Ho perso quella vita e quindi sono morto. Morto e poi rinato. Sono risalito dalla fossa. So quanto è profonda. Sono risalito con le mie forze, senza affidarmi a speranza e paura. Due puttane che ti fottono sempre, come diceva Spinosa. Beh, non esattamente questi termini. Chi ha perso tutto si ritrova senza più niente da perdere. Così non ha più paura. Chi ha perso tutto si adatta a sopportare la disperazione. Così non ha più speranza. Ed è libero. Un uomo libero. Un uomo rinato. Io ho imparato il valore segreto delle cose. Perché ho dovuto riguardarle, riguadagnarle tutte a una a una. Ho imparato quanto valgono anche quando ci sembrano piccole. Quando le diamo per scontate. Cose come respirare, nutrirsi, dormire. Cose come aprire gli occhi la mattina. Io ho imparato a vivere, di nuovo. So che cosa significa. So come si fa. Ho imparato l'arte e il mestiere di vivere. E ora posso insegnarli. Posso essere una guida. Ecco, io sono l'uomo giusto per guidare la Itallum nella sua rinascita. Questa azienda, come in fondo ogni azienda, è stata un grande organismo vivente. La Itallum ha avuto una vita. E poi è morta. Non ho paura di dirlo. Anche se la mia amica Rita Contini sta facendo quella faccia. Proprio questa morte è il passaggio necessario per una nuova vita. La Itallum è pronta per farlo. Passo dopo passo. Sempre in avanti. Una rinascita basata sui fatti. Io non capisco molto dei profilati di alluminio. Lo ammetto. Ma per questo ci sono Rita Contini, innanzitutto, e i nostri collaboratori. Non capivo nulla nemmeno di tessuti industriali quando ho cominciato a lavorare nell'azienda di famiglia, che dopo solo un anno mi sono ritrovato a dirigere. Voi tutti, ormai, sapete com'è andata. Non sono stato io a uccidere la mia fabbrica, ma non sono riuscito a impedirlo. Mi è toccato vederla morire. Io me ne intendo di vita. Di quella degli uomini e di quella delle aziende. Io sono Mario Castelli, il generale, che conoscete la vita in generale. Sono tornato. 26. Dei morti di fame. Applaudono tutti, anche repetti, senza frenarsi. Il generale gli piace come personaggio. Un perdente che sembra tornare a vincere per illudere lo spettatore. E con la sua sconfitta, ingiusta, crudele e definitiva, renderà ancora più tragico l'epilogo. Ora è il turno degli altri personaggi, minori ma comunque interessanti. Si alzano dai loro posti, raggiungono il generale, si presentano e tornano a sedersi uno dopo l'altro. Buongiorno, sono l'avvocato Zingaretti dell'ufficio legale, spiega il primo. Risolve i problemi, dice il generale. Zingaretti ammica. Ammica, sono una certezza. Repetti, ne ha conosciuti di tipi così, non si lascia impressionare. Il dottor Neroni e il dottor Rinaldi salgono assieme, spiegano di occuparsi delle risorse umane. Faremo in modo che tutti vadano d'accordo, dice Neroni. A cominciare da noi due, dice Rinaldi. E poi la volta del dottor Merli, il responsabile della comunicazione. Prego, parli pure, gli dice Castelli. Merle rimane lì, imbambolato. Sbatte gli occhi con la bocca semiaperta. Dottor Merli, ci dica, interviene Rita Contini. Finalmente Merli dice buongiorno. Dopodiché torna al suo posto. Il signor Rudenco parla la sua lingua, tradotto dall'assistente. Mi occuperò della penetrazione dei mercati dell'est, una nuova frontiera per la Italum. Repetti, sa che sono soltanto parole. Il futuro della Italum è già stato scritto da qualcun altro. Chiude la parata l'ingegner Salvini, quello dell'oscura battuta sulla Sambuca. Parla in modo un po' vago, ma con espressione convinta e convincente di nuove tecnologie e riallineamento produttivo. Repetti sbirci agli altri seduti in prima fila al suo fianco. Lo squalo e i tre delegati delle banche guardano e ascoltano concentrati. La recita nell'insieme non li ha lasciati indifferenti. Mario Castelli rimanda a sedere anche l'ingegner Salvini. Ringrazio tutto lo staff. Dice, bravi. Ha un'aria decisamente soddisfatta. Rita Contini fa il suo discorso, che chiude la mattinata. Espone i risultati della sua relazione. Ha bisogno di tempo, ma soprattutto si prende tempo. Fa proiettare l'analisi storica, l'analisi prospettica, l'analisi qualitativa. Ripetti cerca più volte lo sguardo dello squalo. Non capisce se la strizzata d'occhio che gli arriva in cambio sia d'intesa o se sia una contrazione nervosa. Quando Rita Contini chiude la previsione del fabbisogno finanziario a breve, si avverte una pienezza di intenzioni che molti non si aspettavano. Bene, ora possiamo andare tutti a pranzo, annuncia. Ripetti giudica esagerati gli applausi dello staff dell'Aitalum. Per lui cibarsi è solo una tediosa necessità. Quelli sembrano dei morti di fame. 27. Manca poco. Rita avvicina il generale. Chiamo Carlo, gli dice. Così avvisa anche Zagor e Osso che la presentazione è andata bene. Fai pure, ma ho già mandato io un messaggio a Zagor. Il generale le strizza l'occhio e si dà un colpetto sulla tasca dove tiene il cellulare. So come si fa. Rita sorride. Allora staranno festeggiando nel pulmino con birra calda e panini freddi. E la pioggia fuori. Mi fa un po' sentire in colpa. Subito dopo si trasferiscono nel ristorante dell'albergo. Rita e il generale, lo squalo, Ripetti e i tre delegati si mettono a un tavolo. I membri del nuovo staff dell'Aitalum a un altro, più grande e non troppo vicino. E' stata Rita a studiare la sistemazione con accortezza. Il menu è a base di anonime prelibatezze. Rita guarda il generale. Devono essere passati una ventina d'anni dall'ultimo ristorante. La tagliata con la rucola non si usa più. Quando è il momento di ordinare, Rita sta per chiedergli se vuole un consiglio, ma poi lo vede orientarsi verso scelte classiche. Risotto e cotoletta. Seguono battute scontate sulla milanesità. Tanto per fare conversazione, da cui comunque si astengono lo squalo e Ripetti. Il primo è assente. Troppo immerso nei suoi pensieri, presumibilmente sinistri. starà immaginando come masticare l'Aitalum per poi sputarla a pezzi. Ma è il Ripetti che inquieta davvero Rita, con quel suo sguardo mobile e vigile, eppure gelido. Uno sguardo che prende a cattù e cattura, senza restituire. Adesso Ripetti sta guardando verso l'altro tavolo. Quello dello staff. Pure Rita dà un'occhiata. Stanno ordinando anche loro. C'è un gran vociare indistinto. Parlano uno sopra l'altro. E il cameriere sembra in difficoltà. Ma ormai hanno fatto la loro parte. Possono anche lasciarsi andare, senza pericoli. Così vuole credere Rita. Non ha energie per preoccuparsi anche di loro. La attende la vera sfida nel pomeriggio. Manca poco. Arrivano le portate, mentre la conversazione procede in automatico. È come un rumore di fondo, irrilevante. Gli argomenti toccati sono banali. Dalla Italum non si parla, non ancora. Uno dei delegati delle banche chiede come sta il padre di Rita. Meglio, risponde lei. Il generale appare disinvolto, sicuro di sé. Sa di attirare la curiosità e si è preparato a eluderla. Ha la risposta pronta. A interrogarlo sono i tre delegati delle banche, ma ha addosso anche gli occhi dello squalo e di ripetti. Dice di abitare in un loft. Accenna il fatto di essersi trasferito lì di recente. Riesce a far capire che non ha voglia di parlare di dove era prima. Nessuno insiste sull'argomento. E' gente questa che sa farsi i cazzi suoi quando non ha un particolare tornaconto da quelli degli altri. Il generale sbocconcella. Non mangia. Meglio tenersi leggeri. Se lo ricorda, lo sa. Rita scruta ancora tra l'altro tavolo. Il tavolo della fame. Nota che muto sta tenendo un discorso a bocca piena. Si è già ripreso, anche se questa non è necessariamente una buona notizia. Sono arrivati al caffè. Quando suona il cellulare di ripetti, risponde l'aconico guardando gli altri che guardano lui. Si, si, va bene. Chiusa la telefonata, annuncia. Il dottor Rasori sarà qui tra poco. Ottimo, dice Rita. L'intervallo è finito. Sta per andare in scena l'ultimo atto. 28. Morto e sepolto Per ovvie ragioni, non è previsto che lo staff della Italum partecipi alla trattativa per il controllo dell'azienda. Il generale ha comunque chiesto a Rita di lasciarli rimanere. Li vuole vicino. Così lei ha affidato il gruppo al personale dell'albergo. I soldati del generale si godranno piscina, sauna, palestra, bar e tutti gli altri comfort del fortitudo Milan Hotel. Sempre che sappiano goderseli, non è scontato. Rita avverte la Barbie della reception che aspettano Matteo Rasori. Appena arriverà, lo accompagneranno in sala riunioni. Loro ci vanno da soli. Ormai sanno la strada. Il generale, Rita, lo squalo, Repetti e i tre delegati si siedono al grande tavolo ovale che consente a tutti di guardarsi negli occhi. Il generale si siede di fianco a Rita. Di fronte a lui, Repetti, con lo squalo a sinistra e un posto a vuoto per Rasori a destra. I delegati si posizionano vicini tra loro un po' in disparte. Il loro compito non è partecipare attivamente alla trattativa ma soltanto assicurarsi che vada in porto. Le banche vogliono rientrare dei crediti con la Italum. A tale scopo è necessario che Rita Contini accetti un'offerta. Non importa di chi sia e con quali progetti in serbo per l'azienda che Rita continuerà sempre e comunque a sentire sua. Non le consentiranno di tergiversare. La tengono per il collo. Il generale si perde nel ricordo di cosa le banche hanno fatto a lui. Seba le aveva ingannate come aveva ingannato il generale. Ma loro, le banche, alla fine sono rientrate di quei fottuti soldi se non tutti, la maggior parte. Mentre il generale è entrato in cella. È una sconfitta che appartiene al passato e il passato è sparito, morto e sepolto. Mario Castelli, detto il generale, sta schiacciando le immagini che lo hanno accompagnato per tanti anni. Il lento degrado, le rinunce, i distacchi e soprattutto la facilità con cui la società civile ti lascia franare, ti lascia rinunciare, ti lascia distaccare, tanto che a un certo punto non sai più se hai scelto o se qualcuno ha scelto per te. In mezzo a quelle immagini sente aprirsi la porta alle sue spalle. Buongiorno, dottor Rasori. Buongiorno a tutti, risponde una voce. Quella voce. Il generale non riesce a capire di che cosa si tratti. Si volta a guardare il nuovo arrivato. Sta facendo il giro del tavolo. Il generale lo segue con lo sguardo. Osserva i capelli bianchi e la barba bianca, il portamento disinvolto, il sorriso largo e amichevole che però stacca un irrigidimento su tutta la faccia. Credo di non conoscere tutti, dice il nuovo arrivato, sedendosi a fianco di Repetti davanti al generale. Il generale lo fissa e pensa di essere impazzito una volta per tutte. Poi si guardano. Il generale percepisce lo sgomento e allora sa di non essere impazzito. La faccia è sbagliata, ma gli occhi e la voce sono giusti. Non è possibile, mormora il generale. Chi si vede, dice Seba. 29. Che cosa ci fa qui quello? Vi conoscete già, chiede Rita, sorpresa. Abbiamo avuto modo di incontrarci per affari, le spie grasori. Ma è stato molti anni fa, prima che io andassi in Sud America. posso capire che il signor Castelli si sia dimenticato il mio nome, ma probabilmente la faccia adesso non gli è risultata nuova. Rita guarda il generale che non interviene, resta solo lì a guardare i rasori. La chiamavano il generale, vero? Mario Castelli continua a tacere. La faccenda sta diventando imbarazzante. So che ha avuto qualche problema, continua a rasori, ma vederla qui mi fa ben sperare che si sia tutto risolto al meglio. Sembra amichevole, comprensivo, gentile. Il generale ancora non risponde. Tutto bene, gli chiede Rita. Lui scuote la testa. Devo uscire, dice sottovoce. Rasori sembra quasi dispiaciuto. Ci ritroviamo dopo secoli e già non tollera più la mia presenza. Il generale indietreggia fino alla porta, la apre e se ne va. Al tavolo cala il silenzio, finché Rasori non dice. Qualcuno mi spiega che cosa ci fa qui, quello? Rita raccoglie le idee per rispondere, ma ripeti la precede. Pare che sia il nuovo direttore di produzione della Italum. E chi lo ha trovato, dice Rasori? È stata lei, direttoressa Contini. Sì, sono stata io. Ho sempre avuto una grande ammirazione per il generale Mario Castelli, così come l'hanno avuto mio padre e mia madre. Sua madre, capisco, dice Rasori, pensoso. E Rita, invece, a non capire. Improvvisamente Rasori le sembra meno simpatico. Ma questo non ha importanza. L'unica cosa che conta è convincerlo a investire soldi e fiducia nella Italum. Possiamo cominciare, chiede lo squalo con aria scocciata, o dobbiamo aspettare il signor Castelli. Non c'è fretta, dice Rita, e apre il portatile fingendo di cercare qualcosa. Il generale è rimasto fermo sulla soglia, stringendo la maniglia come per aiutarsi a stare in piedi. Improvvisamente Rita lo vede come il vecchio che è. Non era successo nemmeno la prima volta, quando lo aveva incontrato nei panni lerci di un barbone. Allora le era sembrato forte, carico di energia. E adesso? Rasori, devo parlare con lei. Dobbiamo restare da soli. D'accordo, dice Rasori. Se Repetti fosse capace di sentirsi in colpa, forse in questo momento dovrebbe farlo, perché non ha comunicato a Rasori, prima del suo arrivo, che il nuovo direttore di produzione della Italum era niente meno che Mario Castelli. Sarebbe bastato mandargli un messaggio. E invece niente. Repetti non ha voluto rovinare un colpo di scena, ma non ha voluto fare uno spoiler, come si dice nei siti dedicati alle serie televisive, che ormai Repetti frequenta con assiduità. Solo che adesso la storia, questa storia, sta prendendo una deriva imprevista, e peggio ancora, indecifrabile. Comunque Rasori non sembra essersela avuta a male per la sorpresa. Si volta verso Repetti e gli fa un cenno con il palmo della mano, come a dire, ok, va tutto bene. Repetti annuisce. Non mi piace, dice invece lo squalo. Non abbiamo ancora cominciato la riunione e già dovete accordarvi in segreto? Busatta, stia calmo, dice Rasori. Abbiamo concordato delle regole nei giorni scorsi e andavano bene anche lei. Durante la riunione è possibile fare delle consultazioni private. C'è una saletta apposta qui di fianco. Magari avrà bisogno di utilizzarla pure lei più avanti. Nessun accordo segreto, interviene Castelli. Anche perché io, in questa trattativa, non ho alcun potere decisionale. Sono soltanto un consulente. E infatti dobbiamo semplicemente consultarci, vero? Gli ribatte Rasori, ammicante. Mario Castelli si limita a fissarlo. D'accordo, dice lo squalo. Basta che vi sbrighiate. Non abbiamo tutta la vita. No, dice Castelli, non l'abbiamo. Repetti non riesce a dare un senso alla sua espressione. Si tocca il mento. Gli pare di percepire una traccia di barba sfuggita al rasoio. I tre delegati si scambiano occhiate imbarazzate, ma non si intromettono. Non preoccuparti, Castelli rassicura Rita Contini, ma c'è un'inquietudine sulla sua fronte, come un sudore che la imperla. Forza, andiamo, dice Rasori. Castelli arretra dalla sfoglia per farlo passare, poi chiude la porta. Ripetti pensa che qui ci vorrebbe uno stacco. 31. Tutto quello che era tuo. Restano in piedi a qualche passo di distanza. Sono chiusi dentro la saletta, avvolti dalla luce grigia di un pomeriggio di pioggia che filtra dalla finestra affacciata sul parcheggio. Si studiano in silenzio come pistoleri di un vecchio western. Sei tu? Sì, sono io. E non lo sono. Sebastiano Barbieri è diventato Matteo Rasori. Barbieri, Rasori, fantasioso, comenta Mario. Che cosa hai fatto alla faccia? Chirurgia plastica? Ovvio, poco prima di tornare in Italia dal Sud America, ma non hanno fatto un buon lavoro, se penso a quello che ho pagato. Con i soldi che mi hai rubato. Seba fa sorridere la sua maschera. Il generale pensa che era perfino meglio quella di Morini, malgrado la cicatrice. C'era un'intrinseca onestà nella brutta faccia di un uomo brutto anche dentro. E' vero, ti ho rubato un mucchio di soldi, ammette Seba. E sai che cosa ti dico? No, non lo so. Mi è sempre dispiaciuto non avertelo potuto dire guardandoti negli occhi, ai tempi. Avevo dovuto affidarmi a quella lettera. Com'è stato leggerla? Vaffanculo, Mario fa per avventarsi su Seba, ma poi si appoggia al bordo del tavolo. Il suo respiro diventa affannato. Ma guardalo, questo sarebbe il generale? Seba adesso sghignazza. Tu hai riconosciuto me, malgrado il cambio di nome e volto. Io invece non riesco a riconoscere te. Sei soltanto un povero vecchio. Mario lo lascia parlare, fissandolo. Poco fa, quando mi hai riconosciuto, hai evitato di accusarmi davanti a tutti, perché ti sei reso conto che non ti avrebbero creduto. Saresti sembrato un vecchio matto, ossessionato dai fantasmi del passato. Quando sei tornato? Cinque anni fa, dopo essermi preparato bene, con un nuovo cambio di nome, con documenti adeguati, con un nuovo passato da raccontare, costruito nei minimi dettagli. Seba si tocca il volto. E hai messo in piedi quella banca d'affari in Italia. A Milano, puntualizza Seba. Mi mancava, sai? Difficile spiegare perché. È difficile sempre. Milano è una città di cui non riesci a fare a meno. Devi solo imparare a fotterla. Io invece mi sono fatto fottere, dice Mario. Ho cercato tue notizie quando sono tornato. Ero curioso. Sono riuscito a sapere che eri fuori di galera. Ma poi niente. Seba scruta Mario. Di un po', da che pattumiera ti ha tirato fuori Rita Contini? Mario non risponde. Chiede invece. Che cosa vuoi farle? Perché ti interessa tanto la Italum? C'entra Annalisa, vero? Chiaro che c'entra. Ricordavo che l'azienda era di suo marito. Così quando l'affare mi è passato sotto il naso non ho potuto resistere. Mario è spiazzato. Tu la volevi? Certo che la volevo. Come volevo tutto quello che era tuo. Ma lei non si sarebbe mai messa con me. Impossibile. Così ho fatto in modo di separarvi. A costo di buttarla fra le braccia di bomba. Bastardo, grida Mario continuando ad appoggiarsi al tavolo. Sebra, sembra divertirsi un mondo. A proposito, sai che sono stato io a suggerirle l'idea che tu amassi la fabbrica più di lei? In questo caso però non credo di averle mentito. Smetti di parlare di lei, dice Mario. Seba alza le spalle. Hai cominciato tu. E adesso che cosa vuoi fare della Italum se riuscirai a prenderne il controllo? Ci riuscirò Mario, non dubitarne. Dopodiché la farò a pezzi. Tu? Lo considera un completamento dell'opera iniziata, mandando in rovina la tua fabbrica. Un cerchio che si chiude. Ma la Italum può ancora avere un futuro. Seba si confonde di nuovo dentro una specie di sorriso. Tanto meglio. Che gusto ci sarebbe a uccidere ciò che è già morto? Magari sei così scemo da pensare di tornare là e convincere Rita Contini a non accettare la mia offerta. Non ti illudere. Non potrà. Non sarà lei a decidere. Ma le banche. Mi consegneranno la Italum perché io la uccida. Tu sei malato, dice Mario. Malato dentro la testa. Mai dare del pazzo a un pazzo. Io sto benissimo, generale. Ma è stato meglio. Si volta verso la finestra. Indica qualcosa. Guarda. La vedi quella macchina? Sai riconoscere una Ferrari? Beh, è mia. L'ho presa oggi perché avevo voglia di guidare un po'. E per quella non uso certo l'autista. Il generale si scosta dal tavolo e guarda fuori. Seba l'ha parcheggiata vicino alla Jaguar e quindi anche al pulmino della Italum. Esibizionismo puro. Li è andata male perché con quella pioggia il parcheggio è deserto e deserto. Basta, dice il generale. Basta così. Si toglie di tasca il cellulare, un tempo appartenuto a Morini. Se lo porta all'orecchio? Sei sempre lì, chiede. Sì, gli risponde Zagor. Ho messo il viva voce. Abbiamo sentito tutti. L'importante è che abbia registrato anche tu, dice il generale.